Musica Ed eccoci qui ben ritrovati come detto ospite il neo sindaco di Campli Federico Agostinelli Buongiorno Buongiorno a tutti E ben trovato a Teleponte insomma il nuovo sindaco di Campli appena eletto nel segno comunque della continuità Però una vittoria insomma che c'è stata molto ampia con oltre mille voti di scarto Possiamo dire ha mai temuto insomma un avvicinamento di Maurizio Di Stefano anche negli ultimi giorni Per come si era messa questa campagna elettorale Io sono stato sempre molto tranquillo e sereno Ho avuto la fiducia della mia squadra in primis Di tutti i cittadini che ci seguivano e crescevano giorno per giorno E sinceramente questo entusiasmo lo avvertivo e lo percepivo Non c'è mai la certezza perché poi una campagna elettorale bisogna farla sempre fino alla fine Ma c'era la convinzione di aver spiegato bene quelle che erano le nostre idee La nostra voglia di fare per Campli e la convinzione di avere una grande squadra che potesse amministrare bene il nostro comune Questi sono stati gli elementi che mi hanno sempre fatto fare una campagna elettorale serena Dove non ho mai risposto alle provocazioni che mi sono giunte dall'altra parte Nelle ultime giorni, nell'ultima settimana ce ne sono state alcune Ce ne sono state diverse ma ho ascoltato, ho compreso che dall'altra parte si stava disperatamente cercando una rimonta Ma in maniera molto serena ho semplicemente risposto che ogni loro dubbio, ogni loro chiarimento che è necessario Lo darò nel primo consiglio comunale che convocherò a breve Quindi mi sembra corretto parlare poi all'interno dell'istituzione e non nelle piazze Ho sempre fatto così, così ho portato avanti questa campagna elettorale I cittadini di Campli lo hanno compreso e mi hanno premiato con un risultato veramente straordinario E li ringrazio qui pubblicamente Oltre 2700 preferenze, 2706 preferenze Il competitor, ricordiamo Maurizio Di Stefano con la lista di Costruiamo Campli Ne ha raggiunto invece 1647, quindi il risultato è stato abbastanza netto Stato netto, chiaro, un grande risultato di un progetto politico che va avanti La bocciatura di un progetto che è nato solo in contrapposizione al nostro, solo in maniera critica rispetto al nostro Sponsorizzato dal consigliere Sandro Mariani Che a Campli ha fatto una campagna elettorale aggressiva che non ha premiato Ecco, invece il suo progetto è partito da lontano Perché se non sbaglio ci fu anche una conferenza stampa all'epoca Se non sbaglio a gennaio In piena campagna elettorale per le regionali Perché ancora si votava insomma per le regionali Ma lei è uscito subito Qualcuno ha anche detto magari in leggero anticipo sui tempi Qualcuno disse all'epoca Poi dico che i risultati alla fine spiegano un po' tutto Io ho fatto una scelta precisa Non candidarmi alla regione nonostante le richieste che avevo avuto Perché volevo fare il sindaco di Campli Ma questa scelta arriva da lontano Ma al di là insomma di gennaio Arriva anche dagli anni precedenti No ma io sono sempre molto sereno Quello che faccio nei cinque anni precedenti È lavorare per il mio territorio e amministrare Così come farò per i prossimi cinque anni Ogni cinque anni mi guardo dentro E trovo le motivazioni per cercare di continuare il mio percorso Ecco come abbiamo detto nel segno della continuità Perché ha fatto parte dell'amministrazione quaresimale Ho iniziato questo percorso con lui Già dal 2009 Quando candidammo allora sindaco Antonio Francioni Che è stato vice sindaco con Pietro Quaresimale Che oggi è risultato il primo degli eletti Ecco tra l'altro infatti nel consiglio comunale è entrato anche Antonio Francioni Primo degli eletti, un grande risultato Un giusto riconoscimento per una persona per bene Stimata sul territorio, onesta Che ha sempre messo a disposizione la sua figura per il bene del territorio Sia nella professione che ha svolto Sia in ambito politico Insomma sono cresciuto molto grazie a lui Mi è stato sempre a fianco Ha stato a fianco a Pietro Insieme abbiamo creato veramente questo bel progetto Che oggi Campli vede fiorire Vede comunque apprezzare Ed è un frutto di un lavoro di dieci anni almeno Di dieci anni almeno Di amministrazione Quanto c'è di questa vittoria anche di Pietro Quaresimale? Ma c'è anche il traino Diciamo anche della Lega Con un centrodestra in questo momento Che tira, che va forte La mia era una lista civica Come era civica quella di Maurizio Di Stefano D'accordo però Ci sono elementi vari E' ovvio che dal nostro punto di vista Avendolo il sostegno di Pietro Quaresimale Essendo anch'io un esponente Non lo nascondo comunque Di un'area politica insomma Che in questo momento va per la maggiore E' chiaro che questo risultato E' anche legato a questi aspetti Ma quello che ho sempre detto Il risultato principale Campli ce l'ho riconosciuto Per il lavoro che abbiamo svolto Sia nei cinque anni di opposizione Sia nei cinque anni dopo di amministrazione Perché poi il cittadino Soprattutto a livello comunale Non guarda il colore politico Ma guarda le persone Noi siamo persone che si sono sempre spese Per il nostro territorio I risultati che oggi abbiamo Dimostrano che i cittadini Vogliono continuare comunque con noi Vogliono farci amministrare E noi ci metteremo il massimo impegno Come abbiamo sempre fatto per Campli Sì, indubbiamente c'è stata coesione Ed intenti Però insomma c'era stata anche qualche maretta Noi ricordiamo anche con l'attuale capogruppo In regione Pietro Guaresimale Poi dopo però è tutto tornato Da parte sua c'era stato un ritiro di deleghe Nei miei confronti Io vengo eletto come consigliere Periodo un po' così Io guardo sempre il mio mandato Guardando il cittadino che cosa dice Il cittadino ce legge consiglieri comunali Oggi mi eleggono sindaco Quando mi hanno eletto consigliere comunale Io sono rimasto sempre consigliere comunale Di maggioranza Perché poi le deleghe È giusto che il sindaco scelga liberamente Anche quando con Pietro ci sono state Delle divergenze Legate probabilmente anche Un po' a delle situazioni Future che poi si sono Comunque verificate Nel corso delle ultime settimane Ecco sono rimasto corrente Con il mio percorso Di questo i cittadini interessa poco Nonostante magari Più una cosa da gossip E più un argomento sterile Da campagna elettorale Da parte degli avversari I cittadini hanno guardato ben alto Hanno guardato chi è Federico Agostinelli Che cosa ha fatto Federico Agostinelli Negli anni a Campli E poi hanno premiato il lavoro Di una squadra rinnovata Noi abbiamo eletto La consigliera più giovane Del prossimo consiglio E quindi è un segno evidente Che comunque c'è stata la volontà Di è vero confermare Il blocco Della dell'amministrazione Della giunta quaresimale Ma è anche vero Che la maggioranza Dei nostri consiglieri di maggioranza Appunto sono nuovi Ci sono cinque new entry A dimostrazione che Il percorso è in continuità Amministrativa Ma con un vero rinnovamento Da parte dei consiglieri comunali Ecco chi è Federico Agostinelli Se dovesse descriversi Un ragazzo appassionato di politica Che l'ha iniziato a fare Dieci anni fa Appena conclusi gli studi universitari Sono laureato in economia E managgiamento Delle pubbliche amministrazioni Tra l'altro un sindaco giovane Sono il sindaco più giovane Eletto a Campli Questo è un motivo di orgoglio Tra i sindaci più giovani Tra i sindaci più giovani Ma spero di essere ricordato Tra i sindaci Che hanno meglio amministrato Il mio comune Che mi renderebbe ancora più orgoglioso Perché credo che poi Amministrare il comune In cui si è nato In cui si è vissuti Sia una delle esperienze più belle Veramente Che mi ha Che mi ha presso a fare Quindi Mi auguro che avvenga ciò Sono un dottore commercialista Svolgo la mia professione Nel mio studio qui a Teramo E ripeto Porto avanti questa passione forte Che ho per la politica Non solo a Cambi Ma anche In ambito provinciale Dove ho creato questo gruppo Oltre che voi conoscete Avendo presentato Una lista civica Anche a Teramo Le scorse amministrative Anche lì Con un gruppo di persone Completamente rinnovate Abbiamo eletto Luca Corona In consiglio comunale A Teramo In opposizione Perché questo è quello Che i cittadini di Teramo Hanno scelto E credo che con Luca E con tanti altri ragazzi Che oggi si stanno avvicinando Alla politica Stiamo formando un gruppo Un progetto solido Che sono convinto Continuerà a crescere Nel corso dei prossimi mesi Quando ha capito Comunque Che si stava mettendo bene Ma è un po' Tutta la campagna elettorale Come ha ricordato Lei si è sentito sicuro Nonostante Insomma La presenza Come ha ricordato Del consigliere Regionale Del partito democratico Sandro Mariani Però quando ha capito Insomma Che si stavano mettendo Ancora meglio le cose Ma io L'ho capito Dall'entusiasmo Che avevo intorno A parte dei cittadini Di Campli Quello Girando Ascoltando la gente Abbiamo fatto incontri Ovunque Una Un altro campo A diverse frazioni Ne ha tantissime Un territorio A stanza esteso Veramente tante Una candidata consigliera Oggi eletta Che è stata assessora Nella precedente amministrazione Valentina Di Francesco Che si è occupata benissimo Di sociale È stata Tra l'altro La seconda delle elette Ha detto che per fare Una campagna elettorale Al mio fianco C'è bisogno Un certificato Di sana e robusta Costituzione Perché ha girato molto Perché credo Che sia stata Molto impegnata Ma è stata impegnata Lei e tutta la squadra Perché credo Che bisogna essere seri E bisogna impegnarsi Cinque anni Per il nostro territorio Quindi è stata Diciamo Una campagna Davvero intensa Sì Molto Bella Entusiasma Intensa Che Comunque Ha visto un risultato Straordinario E questo Lo abbiamo ottenuto Grazie al tanto Lavoro fatto Perché poi Vincere di mille voti Un comune Dove sono in 4.000 È qualcosa A votare Credo Che fondamentalmente Vuol dire Proprio vincere bene Assolutamente Adesso però Si deve cominciare Adesso si deve cominciare A lavorare Insomma La squadra È da fare Ma si deve iniziare È già pronta la squadra Io ho già iniziato ieri Ma subito Perché sono stato già in comune Immediatamente Perché Veniamo da 8 mesi di commissariamento Legato Alle dimissioni di Luciano D'Alfonso Che da Presidente della Regione È andato a Roma Scappando E lasciando l'Abruzzo Abbandonato Da lì A Catena Si sono susseguite Una serie di Dimissioni Da parte dei sindaci Dei vari comuni Per via di una legge regionale Che Credo Deve essere rivista Perché la trovo Veramente ingiusta E quindi Anche il mio sindaco Si è dovuto dimettere In virtù Appunto Delle dimissioni Luciano D'Alfonso E con commissariamento Che non fa mai bene Di solito Un territorio Il commissariamento Perché di solito Il commissario Arriva Alza le tasse Provvedimenti Magari Non proprio Popolari Vero Ne hanno giocato Un po' In campagna elettorale I miei competitor Che attribuivano Sottoscritto Le scelte Fatte dal commissario Senza sapere Che quel commissario È lì per Luciano D'Alfonso E Sandro Mariani È stato Un Un esponente Del governo regionale Con Luciano D'Alfonso Non gli ha detto mai Ha Non ha mai detto Che il commissariamento È stata colpa sua Però Io credo Che lucrare Su queste situazioni Sia stato uno degli errori Fatto dalla campagna elettorale Di Maurizio Di Stefano Ecco ma che Che Campli Ha ritrovato Dopo questi otto mesi Di commissariamento Ho trovato Una Campli Che voleva Comunque Un sindaco Voleva Una guida Per superare Le criticità attuali E iniziare a costruire Un futuro solido Perché i problemi Che abbiamo Sono tanti E c'è bisogno Di un sindaco Che si assuma Le responsabilità Per poter poi fare Delle scelte Decisive Per il nostro territorio E su questo Credo che i cittadini Hanno valutato anche La mia personalità E la personalità Del mio avversario Quando sono andati A votare Perché sanno Che da ieri Hanno un sindaco Che li guarda in faccia E risponde Autonomamente Su tutto Non hanno Nessuno Che sta lì Per conto Di qualcun altro Perché Federico Costinelli Nel bene Nel male Decide Solo Per quello Che è il mandato Che mi è stato assegnato Dalla mia cittadinanza Dai miei cittadini Che sono gli unici A cui renderò conto Ecco Però è ereditato Insomma Una situazione 5 anni di amministrazione Quasi Di Quaresimale Dove Sicuramente Se i cittadini Hanno votato Diciamo Federico Costinelli Qualcosa di buono È stato fatto Perché parliamo Di continuità Poi Parlato anche Di rinnovamento Con la squadra Che si è costruito Però Con questi Mesi di commissariamento Appunto Le chiedo Come riparte Campi Perché ci sono Diverse problematiche Che ha Il paese Che poi Alcune sono le stesse Che sta vivendo Terra Ma con la situazione Degli sfollati Della ricostruzione Che non parte Poi c'è anche La questione Legata Alla frana Di Castelnuovo Altro Grave Problema Ecco Perciò Le chiedo Che Campi ha trovato E che cosa Metterà in campo Anche per risolvere Queste problematiche Che non sono le sole Trovato una Campi Che Per fortuna Da un punto di vista Della ricostruzione Come gli altri Comuni E in attesa Delle scelte regionali So che Proprio la settimana scorsa Il Presidente della Regione Vuole affidare O affidato Le pratiche B Sono quelle più Semplici E comuni Per poterle poi Gestire Con gli uffici Ricostruzioni Che sono presenti All'interno Degli enti locali Quindi Diciamo che Da questo punto di vista Non abbiamo perso tempo Siamo pronti Subito Per partire E occuparci Appunto Della gestione Del sisma Del 2016 Da un punto di vista Del dissesto Una Campi Ferita Una Castelnuovo Ferita Un posto in cui Abito Conosco molto bene La situazione Che ha voglia Però di gestire Immediatamente Sia la fase Del dissesto Idrogeologico C'è un secondo Aspetto importante Da gestire Che è quello Della ricostruzione Perché ci sono Tante persone Che hanno perso La propria abitazione Per via Della frana E che bisogna Ora Insomma Seguire Perché hanno bisogno Di qualcuno Che comunque Dia informazioni Si occupi di loro Per poter poi Ricostruire E vediamo come Una Castelnuovo Diversa Che sia Comunque Moderna Attuale E che guardi Comunque In tempi In tempi veloci A un ripopolamento Anche del centro Di Campli Che è oggi Veramente ferito Da tutto quello Che è successo Negli anni passati Sì Perché abbiamo ricordato Anche i terremoti Che ci sono stati Tra l'altro Campli ha anche Un buon numero Di sfollate Adesso non ricordo Se sulle centinaia Ne ha Oltre 600 Oltre 600 Che sono fuori Dalle proprie abitazioni E che devono tornare Che non sono pochi Insomma Rapportati Anche il numero Di abitanti Sono più del 10% Quindi Uno su dieci Non vive più Nella propria abitazione Un lavoro grande Da fare Ci aspetta Ma i cittadini Quando hanno votato Hanno votato anche L'esperienza Che hanno vissuto Del sisma 2009 Dove Dall'altra parte Maurizio Di Stefano Non aveva Insieme alla sua amministrazione Risolto Nessuna pratica Del terremoto precedente E l'attuale amministrazione Federico Costinelli In primis Nel giro di due anni e mezzo Ha riportato Tutte le persone Che vivevano fuori Nelle proprie abitazioni L'amministrazione Guidata da Pietro Quaresimale Ha vissuto un'altra Situazione molto critica Che era la frana di Passinella Dove sono andate Via 50 persone Nel giro di tre anni Queste 50 persone Vivono tutte Di nuovo A Passinella Nelle loro abitazioni Questi sono fatti Concreti Non sono spot E sono I motivi più importanti Per cui A Campri Si è scelta La continuità amministrativa E non la discontinuità Di cui Sinceramente Non era Il momento Non c'era bisogno Venendo a altre problematiche Di Campri Il bilancio In questo momento Come si trova Il bilancio Delle casse comunali Ovvio che dopo Un anno Di commissariamento Bisogna riprendere in mano La situazione E vederla Una cosa è certa Sorridevo Quando uno dei consiglieri Tra l'altro Eletti Parlava di bilancio Perché io credo Che per fare il bilancio Bisogna innanzitutto Avere le competenze Io sono anche Revisore dei conti Negli enti locali Quindi certifico I bilanci Come sono certificati I bilanci Del comune di Campi Dai revisori dei conti Nominati Al sorteggio Dalla prefettura E sono quindi Tutti regolari E certificati Questo Per essere chiari Dopodiché A Campi c'è un problema Di cassa Come c'è in tutti I comuni terremotati Perché c'è la sospensione Del pagamento Dei tributi Legati al sisma Ma sono Motivazioni Come dire Sicuramente Legate Legate ad un evento Eccezionale Che creano Delle difficoltà Che andranno superate Nel momento in cui Ci sarà questo sblocco E questo crea problemi Però poi Nella gestione Certamente Ma sono problemi Non legati Ad uno sperpero Di soldi Un indebitamento Certo Sono problemi Legati A delle situazioni Fortuite E sorrido Quando qualche consigliere Neoletto giovane Che Insomma Di competenze In questo ambito Ne ha poche Ha provato Un po' A buttarla Nella bagarre Del bilancio comunale Però avremo modo Nel primo consiglio comunale Di confrontarci Con le carte In maniera serena Cercherò di fare Un confronto Aperto Pubblico Anche un dibattito Con I miei consiglieri Di opposizione A cui darò Le risposte Che hanno tanto Chiesto In campagna elettorale E auguro loro Un buon lavoro Un'opposizione Costruttiva Critica Quando c'è da criticare Ma non A prescindere Perché insomma Dobbiamo lavorare tutti Per il bene di Campli Deve lavorare Col consiglio comunale E col sindaco Anche Pietro Quaresimale Che è consigliere Di maggioranza Come già sta facendo Da qualche mese A questa parte Mi auguro Che lo farà Anche Sandro Mariani Da consigliere regionale Perché non ci dimentichiamo Che il comune di Campli È un comune Che in questo momento Ha due consiglieri regionali Ed è sicuramente Tra l'altro Nati O comunque Che vivono Nella stessa Nella stessa Nella stessa frazione A Piancarani Piancarani Dove c'è stata Una netta affermazione E il seggio Dopo il mio Dove abbiamo vinto Con un maggior scarto Insomma Quindi Che se non sbaglio Quaresimale è nato Proprio lì Quaresimale è nato A Piancarani Abbiamo vinto Il seggio Insomma in maniera larga Così come abbiamo vinto Il mio seggio In maniera altrettanto larga Insomma segno che In questo momento Credo che la buona amministrazione Paghi più di ogni altra cosa Ha nominato il consiglio comunale Ma quando si terrà? Spero di convocarlo Entro il 15 di giugno Spero di fare la giunta Eh tra l'altro Anche La prossima settimana Fine prossima settimana Inizio della successiva Ha già un'idea Ha già un'idea su per giù Delle deleghe da assegnare Sentirò tutti i consiglieri Eletti la settimana prossima Dopodiché farò La migliore sintesi possibile Per Campo E presenterò Quella che è La squadra Migliore Che può amministrare Il comune Col coinvolgimento Ovviamente di tutti Degli altri consiglieri Di maggioranza Ma anche Dei tanti amici Che non sono stati eletti A cui va il mio grazie Per l'ottima campagna elettorale Che hanno fatto Che sono certo Daranno il loro forte contributo In questo progetto E avranno sicuramente Un ruolo anche loro Perché se lo sono Meritati sul campo Immagino che Terrà per sé il bilancio No Non necessariamente No Una ragazza Che è molto brava In materia Vediamo Ne parlerò Ne parlerò con lei Sicuramente Non sarà un problema A segnare questa delega Possiamo già dire Che una delle tre Avrà il ruolo No Ne parleremo O la terrò per me O la darò sicuramente a lei Perché una cosa è certa Ci tengo a dirlo Le deleghe verranno date Per competenze E non per voti Per competenze E una delle deleghe importanti Sicuramente Sarà quella legata al turismo Perché anche il suo predecessore Ha puntato moltissimo Sulla campagna Tra l'altro elettorale Anche regionale Su questo settore Il turismo Perché poi insomma Campi è una città turistica Campi è una città di cultura Quindi credo che lei Ripartirà anche da questo Assolutamente sì Perché turismo e cultura Sono due aspetti fondamentali Che abbiamo Comunque nel corso Del mandato di Pietro Quaresimale Spinto tantissimo Su questo devo dire Che Pietro ha fatto Un ottimo lavoro Glielo Glielo riconosco In maniera molto Molto sincera Abbiamo visto campi al bit Abbiamo visto insomma Tante iniziative Abbiamo adesso L'aiuto della regione Abruzzo Che sono certo Colmerà alcuni vuoti Che c'erano stati Nella precedente esperienza Di governo Di Luciano D'Alfonso Dove Pietro più volte Mi diceva Andiamo alle fiere internazionali Ci siamo noi Non c'è la regione Abruzzo Questo credo Una regione bella Turistica Quella nostra Non se lo può permettere A livello di comunicazione A livello di fondi Comunicazione Fondi Presenze Investimenti Insomma il turismo È bello Ma è lavorato Quindi bisogna crederci Bisogna pensarci Bisogna Investirci Anche il problema del Duomo Che è rimasto chiuso Poi è stato riaperto Purtroppo il sisma Ha creato diverse Sì però Campli La nostra amministrazione Ha lavorato Affinché Potessimo entrare Nei borghi più belli d'Italia È un grande risultato Che abbiamo raggiunto Proprio alla fine Del mandato Che abbiamo portato A termine Insomma ad ottobre E da lì dobbiamo ripartire Perché dobbiamo Ecco ma lei come ha intenzione Di sviluppare appunto Il turismo La cultura C'è un circuito Che è quello Dei borghi più belli d'Italia In cui siamo appena entrati Per l'appunto Adesso ci dobbiamo investire Ci dobbiamo lavorare Ci dobbiamo entrare Dobbiamo iniziare A farci conoscere Vedere Un ufficio turistico Chiuso Nel 2014 Quando non c'eravamo E vederlo Adesso nel 2019 Aperto Con Campli Che è stata visitata Da tantissimi turisti A Pasquetta Il primo maggio Il 25 aprile Credo che sia già Un segnale evidente Del grande lavoro Che abbiamo svolto E questo Insomma I commercianti I cittadini Ce lo riconoscono Bisogna Assolutamente andare avanti Abbiamo fatto La parte più difficile Quella iniziale Adesso dobbiamo spingere tanto Per continuare A creare un asse Che dobbiamo avere Migliore anche con Civitella Del Tronto Dove c'è Insomma L'amministrazione guidata Dal sindaco Cristina Di Pietro Che sta facendo anche lei Molto in questo In questo senso E dobbiamo Campli Civitella Che sono al confine Tra l'altro Territoriale Quindi Assolutamente sì Dobbiamo collaborare Da un punto di vista turistico Ma anche da un punto di vista Di territorio Perché anche Civitella Ha problemi Come Campli È un territorio molto simile Le due frane Peggiori Le abbiamo avute noi E quindi credo che L'asse Campli Civitella Sarà un asset Sarà un asse Credo che Se noi amministratori Saremo bravi a portare avanti Sarà un asse vincente Per entrambe E credo Sia un percorso Da Da continuare Da migliorare Da fare insieme Ne parleremo sicuramente Nei prossimi giorni Dove avrò modo Comunque Di sentire anche Il sindaco Cristina Di Pietro Che credo mi abbia cercato In questi giorni Ma io non sono ancora Riuscito a rispondere Tante telefonate Anche Anche mie Numerevoli Di quel giorno Bene quindi mi perdono Mi scuserete Ma piano piano Se non ha risposto Subito Lo farò Quindi sarà un sindaco Che risponderà al telefono Possiamo dirlo Ovviamente nei limiti Di Campi E non solo Perché sono stato anche Consigliere provinciale Lo sanno Chi fa politica Si mette a disposizione Credo che rispondere Sia proprio la base Per poter bene amministrare Certo Rimanendo In territorio di cultura E turismo A Campi E a Scala Santa Che è un gioiello Unico Insomma Ce ne sono solo tre Nel mondo Se non erro E una c'è la Campi E il Duomo E la necropoli Di Campovalano Che va assolutamente Valorizzato E noi pensiamo Che fino adesso Sia stata valorizzata Il meno possibile Ma insomma È un altro dei gioielli Che ha Il comune di Campi C'è un museo archeologico Da dover valorizzare Insomma Sono tanti gli elementi Per venire a Campi E visitarlo E poi c'è anche lo sport Lo sport Con il basket Che in questo momento Non sta passando Un buon periodo Però probabilmente Lei è un sindaco Che vorrà anche Rispolverare Diciamo Questa società Ha intenzione comunque Di svilupparla Di farla tornare I massimi livelli Non solo il basket Però Pensiamo al basket Hai toccato Hai toccato Giustamente Degli aspetti Molto importanti Il turismo Hai appunto Citato Quelli che sono Veramente Dei monumenti Delle ricchezze Che Campi ha E non solo quelle Perché anche Nelle altre comunità Del comune Ci sono tante Tante belle cose Da vedere E visitare Ovviamente In questo È fondamentale Il ruolo di Pietro In Regione Perché Ovviamente Insieme Insieme a lui Dovremmo fare Bene Tanto E migliorare Per l'appunto Quello che poi È il percorso Culturale e turistico Del nostro comune Mi sono meravigliato Non poco Quando il venerdì Prima del voto Il direttore del museo Si è accorto Che poteva chiudere Il museo archeologico Io credo Che non bisogna Farci politica In questo A due giorni dal voto Io credo Che questi sono problemi seri Che vanno affrontati Chiamerò il direttore Perché è giusto Parlarne In maniera seria Non con un post Su facebook Due giorni prima del voto Vedere quali sono Le criticità So che il consigliere Regionale Pietro Quaresimale Si è già impegnato Affinché Insomma Il museo Archeologico Di Campi Rimanga aperto E venga comunque Migliorato Quindi su questi temi Insomma In maniera seria Parliamone Insomma Io ho trovato Alquanto simpatica La scena di Maurizio Di Stefano Che andava lì Il giorno prima del voto A fare il salvatore Del museo archeologico Insomma io credo Che veramente Insomma Le cose vanno affrontate Non chiude il museo archeologico Non chiude E soprattutto Non ci si va E non ci si può ricordare Il museo archeologico Due giorni prima al voto Quindi In maniera seria Lavoreremo su questo Con un'asse regione Comune Che creeremo In maniera forte Ed evidente Insomma Ci saranno bei traguardi E bei risultati Nei prossimi cinque anni E poi c'è lo sport Non solo il basket Perché canta e tanto altro Ci sono tante Veramente tante realtà Che devono essere potenziate Migliorate E sostenute Su questo saremo In prima linea E' ovvio che c'è il problema Del basket Lo trovo un problema In questo momento Perché Viene da anni difficili Ma Ne voglio parlare In maniera seria Da primo cittadino Non voglio E' un tifoso di basket O di calcio Sono un appassionato Di basket Sono stato anche Per tanti anni Arbitro di basket A livello anche nazionale Quindi Quindi conosce perfettamente Sì ho giocato a basket Insomma noi Su questo c'è una passione Forte Ma la passione Deve essere tale Da non essere confusa Col ruolo che ho oggi Sono il primo cittadino Quindi è giusto il basket Ma è giusto anche pensare A tutte le altre Attività E' ovvio Che Per quanto riguarda Il mio impegno Io sono a disposizione massima Per poter dare il mio contributo Qualora Le società sportive Di basket Perché al momento ne sono due Me lo chiederanno Io Non mi metto Davanti Se non verrò Chiamato Da parte loro Perché voglio Veramente dare il mio contributo In maniera libera e spontanea Da primo cittadino Quindi Sono convinto Che Se c'è bisogno Del sindaco Il sindaco In prima linea E' pronto A lavorare con loro E a trovare Quelle che sono Le soluzioni migliori Per quanto riguarda Appunto Lo sport Ma questo parlo del basket Come posso parlare Di tante alterità Perché magari Tante difficoltà Ce l'hanno anche Altre società C'è Ne abbiamo parlato In campagna elettorale Poco Perché comunque Ripeto Credo che Quando uno amministra Poi promettere molto In campagna elettorale È relativo Perché Qualcuno potrebbe sempre dire Perché non l'è fatto prima Ed è anche giusto Noi tante cose Non le abbiamo potute fare Perché abbiamo amministrato Nei quattro anni Gli ultimi due Con delle emergenze Che sono state evidenti E quindi non ci hanno permesso Di fare l'ordinario Però un'altra cosa Che mi piacerebbe fare Per cui mi voglio impegnare Per esempio Creare un campo Di calcio a 11 In erba sintetica Che credo sia un risultato Che campi al momento Meriti E su questo Dovremmo lavorare Nel corso Dei prossimi mesi Quindi portare Più calcio Rispetto al basket A campo Non è una questione Più o meno È una questione Di essere presenti Su tutto Essere comunque A disposizione di tutti Allo stesso modo Non c'è un più o un meno Ci deve essere Un'uguaglianza Come deve esserci Un'uguaglianza Nel trattare i cittadini Allo stesso modo Sia coloro Che ci hanno sostenuto Che ringrazio Perché sono stati Veramente tantissimi Sia coloro Che hanno creduto Meno Nella continuità Di questo progetto Amministrativo E mi auguro Che anche loro Si crederanno E capiranno Che quello che vuole fare Federico Costinelli E la sua squadra È amministrare al meglio Il proprio comune Siamo alle battute finale Non abbiamo parlato Però del simbolo Di Campli per eccellenza Al di là di tutte le sue Bellezze innumerevoli Che conosciamo tutti La porchetta Se c'è ancora un modo Per valorizzarla ancora di più Anche lì Pietro Quaresimale Si è dato molto da fare Sì Sul simbolo stesso Portandola anche Nei vari Nei vari eventi Anche a Milano Sì tanto Ma c'è tanto altro Da fare sulla porchetta C'è da Beh Campli è la porchetta Ovviamente non solo Però è la porchetta Non c'è dubbio C'è da migliorare tanto Dobbiamo lavorarci Tra l'altro Quest'anno La prima sagra Insomma da sindaco Sì la prima sagra Da sindaco Ad agosto Che arriverà brevissimo Quindi diciamo Che la sentirò Più da un punto di vista Emotivo Che pratico Perché ovviamente Insomma L'organizzazione della sagra È lunga La Proloco Ha già iniziato Da tanti mesi Ad organizzarla Quindi quest'anno Una grande emozione Sicuramente Insomma Sarà una sagra Che ricorderò Per sempre E poi In collaborazione Insomma Con tante persone Che si occupano Spontaneamente Liberamente Dell'organizzazione Della sagra Sicuramente Inizieremo Un lavoro Solido Un lavoro Che deve essere Comunque Ancora Più bello Di quello Che già fanno Per cercare Ancora di più Di lanciare La sagra Della porchetta E magari Riportare anche Qualche porchettaio Camplese Perché negli ultimi anni C'era stata anche Qualche discussione Del merito Campli deve essere Un territorio unito Lo deve essere Nella cittadinanza Lo deve essere Anche per la sagra Della porchetta Hai toccato Un tema importante Che ho toccato Anche in campagna Elettorale Credo che sarebbe Un bel risultato Portare tutti Coloro Che fanno porchetta A Campli Alla sagra Su questo C'è un lavoro Da fare Perché Le cose Non vengono mai Per caso Sicuramente Insomma Ne parlerò Con la prologo Che si impegna Nell'organizzazione Della sagra E darò Il mio contributo Il mio punto di vista Su quello Che deve essere Che deve essere Campli Che deve essere La sagra Della porchetta E io credo Che bisogna Assolutamente Unire tutte le forze Perché Campli Ha bisogno di questo Bene Chiudiamo semplicemente Con Insomma Neanche una domanda La prima Hai già cominciato A lavorare Però adesso Qual è la primissima Cosa Su cui ti metterai A lavorare Subito Ecco domani Dopodomani In settimana Settimana prossima Sono tante Subito Sull'organizzazione Sull'organizzazione Degli uffici Perché Ecco Il commissario Ha fatto delle scelte Importanti Ha fatto delle assunzioni Quindi vanno Vanno collocate Ma va visto Insomma Che tipo Che tipo di situazione Trovo in comune Ci sono dei pensionamenti Insomma L'organizzazione Della macchina È fondamentale Soprattutto Convocherò Pietro Quaresimale E Sandro Mariani In comune Perché credo Che sia giusto Coinvolgere i due Consiglieri regionali Per iniziare Un percorso insieme In sinergia E lanciare campi Ancora più in alto Di quello Che abbiamo già fatto Fino a ieri Bene Mi sembra di capire Che tenderei all'unità L'unità di intenti Un po' in tutto Vuoi coinvolgere tutto Tutti Sembra un concetto Banale Qualcuno si è fatto Un sorriso Quando l'ho detto In campagna elettorale Io credo che chi fa politica Sa quanto è difficile Creare unità Quindi spero Che quel sorriso Sarà il mio stesso sorriso Alla fine del mio mandato Dove sarò riuscito Veramente Ad avere Una campi diversa E questo Lo faccio per il bene Della città Che vado ad amministrare E che amo veramente Bene Grazie a Federico Agostinelli Per essere stato qui con noi E in bocca al lupo Ovviamente Viva il lupo Grazie a voi Grazie ancora Noi con prima di tutto Ci ritroveremo invece Per un altro appuntamento Una buona giornata Arrivederci